Una Chiesa viva con pastori che sono vicini alla gente. Papa Francesco ha accolto con gioia i Vescovi della Conferenza Episcopale della Repubblica del Congo esprimendo apprezzamento per la recente creazione di tre nuove diocesi. Nel discorso consegnato il Pontefice incoraggia tutti a proseguire nell'opera di evangelizzazione e formazione dei laici di cui la pastorale della famiglia è parte integrante, precisando che il popolo di Dio ha bisogno di pastori zelanti, testimoni reali del Vangelo, soprattutto attraverso il celibato e la povertà. Pensando alle cicatrici che sono rimaste dalla crisi che ha colpito il paese alla fine degli anni 90, Papa Francesco incoraggia infine i presuli a riconciliare i cuori, a far riavvicinare comunità divise promuovendo una fraternità basata sul perdono e la solidarietà.